Un saluto a tutti i lettori di SmartphoneLab.it Sto girando questo video da Galaxy A7 2018 alla risoluzione del 1080p a 30 frame per secondo Questo è uno dei pochi smartphone che purtroppo, nonostante sia sulla fascia di 300€, non ha la registrazione in 4K Ma tant'è, la stabilizzazione è solo digitale quindi non abbiamo una stabilizzazione ottica Provo a fare uno zoom, vediamo un po' quanto mantiene, uno zoom 4x Mi continuo a muovervi un po' per farvi vedere la qualità della registrazione E anche per vedere un po' l'adattamento agli sbalzi di luce Facciamo un bel incontro sole, vediamo un po' Come si adatta Insomma, video girato da questo A7 2018 Trovate da poco online sia la recensione video che anche quella scritta Ciao ciao